Ad un mese dalle festività natalizie scattano i dispositivi per garantire a turisti e napoletani una vacanza sicura ed una città più vivibile. Il nuovo piano per la sicurezza nelle strade cittadine, che entro dicembre sarà attivo 24 ore su 24, prende il via oggi con presidi serrati e decumani e nelle zone di via Epomeo e Corso Secondigliano. Ottanta gli agenti di polizia municipale a presidio dei principali varchi di accesso al centro antico. Patuglia a piedi assisteranno i visitatori nei momenti di maggiore affluenza e sensi unici alternati per i pedoni consentiranno un più fluido attraversamento nella strada dei pastori. È prevista inoltre l'installazione di infopoint nelle principali piazze dei decumani per fornire informazioni sugli itinerari artistico-culturali ed anche sulla mobilità. Uniremo in questa zona le attività di controllo e di sicurezza, attività di informazione e di ausilio a tutti i turisti che arrivano qui per visitare la zona dei decumani e la zona del centro storico. Abbiamo stabilito un rapporto con l'associazione degli albergatori e con l'ente provinciale per il turismo affinché questo servizio possa funzionare nel migliore dei modi. Sul fronte sicurezza proseguono i controlli contro i parcheggiatori abusivi. Negli ultimi giorni circa 170 persone sono state identificate e schedate grazie al lavoro della municipale e sono al vaglio dell'amministrazione misure straordinarie per contrastare in maniera definitiva il fenomeno.